Parlavamo della storia e in effetti quella di questo piccolissimo stato è davvero gigantesca. Come al solito nel mondo arabo uno splendido modo per ripercorrere parte di questa storia è rappresentata dai forti. Nati per evidenti scopi di difesa, questi monumentali edifici rappresentano ancora oggi la grandezza e lo splendore di un'epoca d'oro in cui questa terra era il fulcro economico e commerciale di buona parte del mondo orientale antico. Il più importante forte del paese è il Bahrain Fort risalente al secolo XIV e ingrandito nel 500 e all'epoca della dominazione portoghese quando vi furono aggiunte tre torri. Ai lati del forte sono interessanti i resti di un antichissimo borgo, testimonianza ancora dell'antichità di questa terra. Questo è l'Arad Fort, costruito verso la fine del XVI secolo, perfetto esempio di architettura militare medievale a lungo posseduto dai portoghesi che furono grandi dominatori dell'isola. Grazie a tutti. 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 Molto suggestivo, anche per la sua bellissima posizione, è poi il Riffa Fort, anch'esso splendidamente restaurato e oggi sede di un bellissimo museo e di innumerevoli mostre e spettacoli molto importanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.